Musica Prosegue il progetto didattico energicamente realizzato da Estra in collaborazione con Lega Ambiente. Hanno aderito già 720 classi in tutta Italia. Il 15 marzo scade il concorso dedicato alle scuole e il 23 aprile quello dedicato alle famiglie. Musica Efficientamento energetico per le sedi Estra di Arezzo e Prato con un investimento totale di 589 mila euro in parte finanziato con fondi europei Estra risparmia nei consumi e riduce le emissioni. Musica Dopo Arezzo anche a Siena riprende Anche Io Uso Internet il progetto di responsabilità sociale ideato da Estra per l'educazione e l'acquisizione di competenze digitali degli anziani over 65. Musica Il club Schermankona con i suoi 100 atleti dalla categoria Pulcini ai Senior entra a far parte di Estra Sport Club, il gruppo sportivo della multiutility energetica al quale sono affiliate 40 società. Musica 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 Musica